Eccoci e bentornati sul mio canale nuova breaking news su Call of Duty World War 2 direttamente dal sito internet del Comic Con di San Diego questo importante evento videoludico e non solo che si svolgerà a fine luglio esattamente dal 20 al 23 di luglio arrivano nuove informazioni in merito al World Reveal di Call of Duty World War 2 modalità Nazi Zombies come sapete la Sledgehammer Games ha pubblicato un poster annunciando che la nuova modalità Zombies sarà presentata in occasione di questo evento esattamente il 20 di luglio se andiamo a vedere proprio tutti i dettagli sul sito del Comic Con di San Diego si parla del 20 luglio con una durata veramente molto lunga dalle 11.45 am alle 12.45 pm quindi veramente tanto tempo durante il quale sarà presentato il nuovo Nazi Zombies di Call of Duty World War 2 la descrizione dell'evento parla di ovviamente una modalità cooperativa Zombies di un capitolo molto dark e si continua a sottolineare l'aspetto horror infatti potremo leggere daremo un primo sguardo alla nuova esperienza zombie horror della squadra della Sledgehammer Games ricca ovviamente di horror sarà presente ovviamente il Dev Team quindi la squadra di sviluppo della modalità Zombies è un cast di attori di Hollywood i quali dovranno sopravvivere alla nuova esperienza horror zombies di quest'anno e quindi sicuramente faranno provare in diretta la nuova modalità tanto attesa da noi videogiocatori si aggiunge inoltre che i partecipanti riceveranno un numero limitato di Call of Duty World War 2 Nazi Zombies poster ovviamente ragazzi il 20 di luglio mettetevi sintonizzati sul mio canale YouTube per tutti gli aggiornamenti, immagini, trailer in tempo reale su questa attesissima modalità fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video